Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Italiano. Oggi voglio rispondere a una domanda che mi è stata fatta nei commenti sui miei social qualche giorno fa e la domanda era qual è la differenza tra il passato prossimo e il passato remoto? Vediamo di iniziare con una invece una somiglianza tra questi due verbi sono passato prossimo e passato remoto sono verbi che fanno parte del modo indicativo e sono tempi composti perché hanno l'ausiliare essere o avere e il participio passato dei verbi quindi vediamo adesso le differenze si usa il passato remoto quando lo usiamo per indicare fatti che sono avvenuti in un passato molto lontano si parla spesso di anni e che non ha un passato che non ha più legami con il presente un presente inteso nel momento in cui scrivo o parlo il passato prossimo invece indica fatti del passato che possono avere un legame con il presente ad esempio la scelta però tra il passato prossimo e il passato remoto sta soprattutto nella distanza o vicinanza psicologica quindi delle emozioni che si percepiscono per spiegarvelo bene vi faccio questi esempi l'esempio numero 1 con il passato remoto Dante nacque in toscana questo ho usato il verbo nacque dal verbo nascere lui nacque e perché non ha più legami con il presente ma se io uso il passato prossimo e dico la frase ho studiato l'opera di Dante la divina commedia quando ero scuola quello studiato è nel passato prossimo ed è qualcosa che ha ancora dei legami anche emotivi con il presente perché io ricordo ancora adesso molti passaggi della divina commedia e quindi a conseguenze nel presente perché io come altri studenti moltissimi altri studenti italiani ricordiamo ancora oggi quindi nel presente ciò che abbiamo letto e studiato di Dante esempio numero 3 da ragazza vissi un anno a londra quindi quel vissi dal verbo vivere io vissi è un'azione avvenuta nel tempo passato perché anni e anni fa e che non ha più molti legami per me a livello emotivo con il presente ma se io uso e questo è l'esempio numero 4 quella quell'avvenimento con il passato prossimo io dico da giovane sono andata a londra a vivere per un anno quindi quell'esperienza è stata importante e emotivamente significativa e quindi posso usare il passato prossimo in conclusione nell'italiano parlato spesso si usa solo il passato prossimo ci sono delle differenze perché nell'italia del centro nord noi tendiamo ad usare quasi sempre nel parlato il passato prossimo nell'italia del sud invece usano il passato remoto e il passato prossimo nel modo più corretto c'è la differenza che mentre nel parlato possiamo usare sempre il passato prossimo nell'italiano scritto è consigliato ed è meglio utilizzare il passato remoto quindi questa era la differenza tra i due verbi e spero di essere stata chiara nell'utilizzo e nella spiegazione e commentate qui sotto se avete capito volete scrivere una vostra frase al passato prossimo o al passato remoto scrivete qui sotto e cerchiamo di interagire noi ci vediamo domani con un altro video lasciate un mi piace così questo canale comincerà ad essere visto da sempre più persone e noi ci vediamo nella prossima lezione ciao a tutti